Ciao Michela, innanzitutto immagino la bellezza di vivere in una casa inondata di tanta luce naturale dove l'interno e l'esterno si fondono insieme, come nel tuo caso. Oggi la tendenza del design e dell'architettura è di realizzare edifici con seramenti sempre più grandi e con ampe specchiature vetrate. Le ragioni sono molteplici, in primis perché studi e ricerche hanno confermato che la luce naturale dona benessere e comfort eccezionali all'uomo, in particolare ai bambini. Poi perché le nostre case sono sempre più concepite come ambienti che si integrano nel paesaggio e nell'ambiente naturale, non come fortini dentro cui barricarsi. Per soddisfare queste esigenze, Shuko ha realizzato soluzioni uniche. Innanzitutto i seramenti sono in alluminio, un materiale resistente, idoneo a sopportare pesi e ante di grandi dimensioni, senza deformarsi. Questo consente di aprire grandi fori finestra, grazie ai profili sottili che permettono l'ingresso di tantissima luce naturale. Per aprire e chiudere i seramenti di grandi dimensioni, Shuko utilizza sistemi di automazione completamente integrati a scomparsa all'interno dei profili. Facciamo qualche esempio. Immagina un'anta molto grande, 3 metri per 3 metri e 20, che prevede un vetro ad alta sicurezza e ad alto isolamento termico. Quest'anta può raggiungere tranquillamente il peso di 400-500 kg. Movimentarla a mano potrebbe essere semplice grazie ai sistemi Shuko. La ma movimentarla significa anche farlo in sicurezza. Immagina se dovesse passare in quel momento un bambino e improvvisamente tu dovessi arrestarla. In questi casi consigliamo sempre di motorizzare l'anta con i sistemi di automazione Shuko. Il primo vero beneficio è quello di azzerare completamente gli sforzi di manovra. Puoi gestire ante grandi e pesanti semplicemente sfiorando un tastierino, utilizzando una app del tuo telefono oppure lasciando che sia il tuo assistente vocale a farlo per te. Alexa chiudi tutto. Il secondo grande beneficio è la sicurezza. I sensori a raggi infrarossi e le sicurezze integrate consentono di rilevare la presenza di persone e di oggetti bloccando immediatamente le ante. Aggiungo ancora un particolare e mi riferisco all'attenzione all'estetica che i nostri designer pongono sullo sviluppo dei nostri prodotti. Mi riferisco ad esempio alla nostra filosofia di integrare tutti gli elementi di movimentazione a scomparsa all'interno dei profili, come ad esempio i motori, le centraline e gli attuatori. Con Shuko hai la garanzia di un'estetica sempre pulita e di un design curato nei minimi dettagli. Anche in caso di finestra motorizzata puoi movimentare l'anta alla vecchia maniera. Lo puoi fare utilizzando i pulsanti integrati all'interno della maniglia stessa che conserva il medesimo design della maniglia normale. Michela spero di aver chiarito tutti i tuoi dubbi riguardo ai seramenti di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni puoi contattare un partner Shuko. Sono in tutta Italia e l'elenco completo lo puoi trovare nel nostro sito.